La truffa della gomma I malviventi però hanno iniziato a pensare anche ad altro. Occhio alle gomme, infatti. Se siete fermi ad un semaforo o ad un parcheggio e vedete un'auto che vi affianca, non lasciate mai portafogli o smartphone sui sedili. Se il malvivente vi fa segno che avete le gomme bucate e vi ferma, vi invita a verificare l'accaduto e quando siete distratti vi scippa.